Non sono bastate le proteste, le contestazioni, le proposte alternative di residenti e commercianti. Alla fine la zona traffico limitato in corso Vittorio Emanuele si farà e senza alcuna modifica rispetto ai piani originari del Comune. La Giunta ha dato il suo ok, l'ordinanza dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni per entrare in vigore il 1 luglio. La ZTL sarebbe estesa lungo tutto il Cassaro da Porta Nuova ai Quattro Canti. Le auto non potranno più percorrere la via più antica di Palermo che invece resterà accessibile ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine nel tratto a monte, cioè da Porta Nuova alla Cattedrale e poi anche per i residenti purché muniti di pass nel tratto mare, ossia dalla Cattedrale in poi. Mentre si attende il via libera definitivo per il quale però è necessario l'ok del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e si guarda con attenzione alla seduta dell'UNESCO che dovrà dire l'ultima parola sulla promozione del percorso arabo-normanno di Palermo-Moreale-Cefalù a patrimonio dell'umanità scattano le procedure per il rilascio dei pass. A questo punto indispensabili per i residenti di questa vastissima fetta di città. Possono essere richiesti presentando una serie di documenti, insieme a quelli di identità servono ad esempio le copie di contratti di affitto o le bollette e possono essere ritirati dal 25 giugno in diverse postazioni del Comune dall'anagrafi di Viale Lazio agli uffici di Piazza Marine e Piazza Giulio Cesare. Ma anche su questo non mancano le polemiche, un solo pass per famiglia rischia infatti di essere insufficiente. residenti e commercianti continuano a protestare, ci sono state riunioni, assemblee cittadine, sono state avanzate anche richieste di ammorbidimento delle misure e ipotesi alternative alla chiusura totale come ad esempio un sistema di pedonalizzazione a fasce orarie. Finora però nulla è cambiato.